e ciao a tutti ragazzi sono Feneran, Wonsband, Bond, Bumbu, Zell, Bruceband, Baran senza perderci in tre ore di video per tre semplici risposte o forse sono due semplici risposte andiamo, andremo, 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 asdrumo sentimi scoccio di cliccare cancella e riniziare ok quindi andremo, andremo is the new I don't know andremo, andremo a dare le due risposte veloci a cosa si deve fare per questo banner il nuovo banner, dici copertina fantastica, si deve pullare, no, opinione mia, sì, lo devi fare, no i tre personaggi in banner ti possono uscire, certo, quanti altri te ne possono uscire tu ti dici mai usciti da quando esiste questo gioco, conviene pullare su questo banner, no non sei ancora convinto, chapeau banner che arriva in mercoledì, sono quelli vecchi di un anno, servono a qualcosa, no le tecniche servono a qualcosa, no, conviene pullarli, no, è uno spreco di dreamable, sì, opinione mia, sì, li pulli, chapeau finito ragazzi, questo era tutto per il video di oggi, penso di aver riassunto tutto in 60 secondi su che cosa fare fino a mercoledì vi ricordo che in descrizione c'è il link di Twitch dove siamo in live ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno per chi sa quante ore, finché riesco a reggere, finché Gesù mi dà la forza di reggere c'è il canale Telegram dove ci sono tanti, tanta bella gente, ci sono alcuni che sono proprio belli cazzo se sono belli e potete parlare con loro e non è una chat tipo pornografica, no, loro si fanno scrivere e rispondono anche cioè se andate in confidenza vi mandano anche la foto dei piedi e queste cose così quindi secondo me è molto 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 conveniente tralasciando questo ai più audaci, quelli là proprio più audaci in realtà c'è anche un Patreon per supportare il creator supportare il creator sarei io, Patreon è uno step successivo di cui al momento non mi va di parlare anche se sto chiedendo di fare Patreon, sono un po' in controsenso vitale quindi per questo video è tutto, ho sforato con 120 secondi ci becchiamo tra poco in live, vi ricordo che tra poco vado in live con 10.000 giochi diversi, 10.000 cose diverse, 10.000 sbarabaggi e ciccocco quindi ci becchiamo tra poco, è stato un piacere di pazzi, a domani